Buongiorno ancora da Telefriuli a tutti voi, bentrovati a questo ultimo appuntamento settimanale con a voi la linea, cominciamo subito con un collegamento in diretta, il tema è sviluppo imprese, ne ha parlato il PD del PD di Venezia Giulia questa mattina in una conferenza stampa, allora la seguita per noi Isabella Gregorato Incontro oggi nella sede della regione a Udine del gruppo consigliare del PD si è parlato soprattutto di sviluppo impresa, le modifiche che devono essere apportate secondo il gruppo consigliare regionale del PD. Accanto a me c'è il segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli Lei ha introdotto praticamente l'argomento anche facendo riferimenti alle misure che sono state adottate in questo periodo dalla regione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus Soprattutto le misure che ci aspettiamo che vengano adottate in futuro dal punto di vista economico Io ma anche il capogruppo Bolzonello insieme abbiamo sempre richiesto anche in questo sviluppo imprese che si prendesse in considerazione il coronavirus, la Brexit e quello che accadeva nel mondo Siamo stati derisi sostanzialmente rispetto a questa richiesta Ora invece è il momento di non fare polemiche ma di mettere in campo risorse vere per il futuro della nostra economia delle nostre imprese e dei nostri esercenti Noi chiediamo questo, abbiamo messo delle proposte serie, le dirà sicuramente il capogruppo ma anche sulla crisi del coronavirus chiediamo che ci siano risorse vere e finalmente una regione capace di darsi delle priorità che abbia una giunta presente e non magari in vacanza ma che ci dia la capacità di mettere in campo da subito risorse vere per il Friuli Venezia Giulia Ecco, perché proprio dalla prossima settimana comincerà la discussione per quanto riguarda appunto la nuova norma sviluppo impresa Sviluppo impresa e che il PD definisce una norma di manutenzione Ne parliamo col capogruppo appunto del PD in Consiglio regionale Sergio Bolzoni Sì, di fatto quella che era stata annunciata come una grande norma di riforma è una norma di manutenzione ma non per sminuire perché nei fatti è così e lo abbiamo motivato, io sono relatore di minoranza nella mia relazione ho motivato proprio il perché la definiamo norma di manutenzione che attenzione non significa sminuirne la portata servono manutenzioni a norme che ci sono già Rilanci Impresa di cui in qualche modo ho la paternità scritta nel 2015 aveva bisogno di una serie di manutenzioni e bene ha fatto questa giunta a farle peccato però che non abbia rinnovato e riformato tutta una serie di materie in particolare, fermandoci al manifatturiero, era stato annunciato un grande ragionamento sul digitale e così non è In effetti voi nella vostra proposta avete pensato addirittura di introdurre una trentina di emendamenti però vi sono quattro elementi importanti, fra questi appunto la digitalizzazione poi i consorzi industriali, quindi accessi diversi, il terziario avanzato e la sicurezza partiamo proprio dalla questione della digitalizzazione, qual è il suo pensiero brevemente? Allora il tema è conosciuto agli addetti ai lavori si è investito molto in questi anni in trasferimenti tecnologici attraverso l'industria 4.0 oggi c'è la necessità di trasformare tutti questi investimenti anche nella partita digitale per far questo serve una norma doc che in questo disegno di legge non c'è noi andiamo, digitalizzazione cosa significa per la gente perché altrimenti non ci capiamo significa sposare, mettere accanto all'hardware, quindi accanto alle macchine tutta la partita della software, i grandi big data, quindi tutta la partita dell'intelligenza artificiale tutta la partita del machine learning, insomma tutto un mondo che le nostre aziende piccole e medie, in parte anche le grandi, ancora non ha Ecco poi un elemento di novità, saremmo i primi in sostanza in Italia stiamo parlando di Kibbs, anche questo è un aspetto nuovo il Friuli Venezia Giulia anche in questo senso potrebbe fungere da laboratorio per tutto il resto d'Italia Sì, i Kibbs che di fatto è un terziario avanzato, sono aziende di terziario avanzato a sostegno della manifattura di fatto in Italia non sono normati, mentre sono normati in Germania, in Francia, negli Stati Uniti la stessa Unione Europea attraverso i codici ATECO individua quali aziende possono essere Kibbs tutto questo viene fatto, viene fatto con questa norma di legge e darà possibilità al manifatturiero di avere ancora più opportunità Ecco, parliamo anche di fondi, secondo lei la Regione quanti fondi dovrebbe mettere a disposizione appunto per lo sviluppo delle imprese? In questo caso, per queste due misure che noi proponiamo, sono misure da 10 milioni all'anno la prima sulla digitalizzazione per tre anni e nel secondo caso 2 milioni il primo anno e 4 e 4 quindi un totale di 10 milioni nel triennio per la parte legata ai Kibbs C'è il tema del coronavirus che ha bisogno di almeno una trentina di milioni di euro perché anche qui apro e chiudo una parentesi, sono molto contento di aver letto questa mattina le dichiarazioni della Presidente Fedriga che prende totalmente la proposta del Partito Democratico e mia in particolare all'ultima conferenza di Capigruppo avevo sostenuto che c'era la necessità di andare a prendere i fondi anticrisi che nascevano su mia proposta in rilancio impresa 5 anni fa e dovevano essere rimodulati questo è stato fatto ma sono fondi che già esistono Appunto, i fondi ci sono? Sono quelli accantonati? Sono fondi accantonati per altre cose dentro questi fondi anticrisi dalle banche popolari a aziende in crisi eccetera eccetera che quindi dovranno essere rimessi perché non è che li riportiamo via e poi non ci sono più al momento possono essere utilizzati immediatamente per il coronavirus per alcune cose emergenziali ma poi dovranno essere ovviamente rimessi è evidente che non possiamo non partire da un minimo di una trentina di milioni di euro quindi un 30 milioni più questi due problemi un totale di un 40-50 milioni di euro che vanno trovati e vanno trovati nel fondo di riserva che esiste e attraverso una serie di altre poste di bilancio che sono, penso al bonus bellezza che è fermo sono un 5-6 milioni di euro fermi da giugno dello scorso anno che non vengono utilizzati leviamoli lì e portiamoli dentro a questa partita Bene, ringraziamo il capogruppo del PD Sergio Bolzonello ringraziamo il segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli e appunto dalla regione Audine e tutto restituisco la linea allo studio Grazie, grazie Isabella Gregorato noi andiamo a Sacile ora perché ci sono novità nel sistema della sosta rimodulazione dei parcheggi blu disco orario e anche cambio delle tariffe per sapere di più ci colleghiamo con Daniele Micheluz Buongiorno da Sacile siamo in compagnia del sindaco Carlo Spagnolo oggi parliamo dei parcheggi perché ci sono delle novità importanti che riguardano le tariffe e non solo, sindaco Sì, le tariffe sono una parte noi stiamo cercando di dare una risposta importante per quanto riguarda le viabilità in particolare quella ciclopedonale verrà liberata una parte di Viale Zancanaro per consentire la realizzazione della pista ciclopedonale e in tutto il Viale consentirà quindi anche agli studenti e ragazzi che si recono a scuola di avere un percorso in piena sicurezza all'interno di un progetto più ampio della città questa liberazione ovviamente sopprimerà una serie di parcheggi oggi esistenti che verranno posizionati nell'altra via Viale Trieste non solo e quindi andremo anche a rimodulare completamente l'assetto dei parcheggi con essi anche le tariffe naturalmente adeguandole ovviamente non solo in aumento anche in riduzione alla liberazione di parcheggi anche passando da aree blu a pagamento ad aree a disco orario per consentire proprio una maggiore rotazione delle persone quindi la possibilità di fruire anche per le attività di tipo commerciale Quanti sono i parcheggi interessati e quali le tariffe che avete in mente? Allora adesso vigono tariffe su 5 quote diciamo dallo 0,30 all'1,20 produrremo una rimodulazione in tre aree dalla più centrale e più periferiche passando dall'1,20 nell'area centrale fino allo 0,40 nelle aree un po' più come dire non centrali del cordone laterale naturalmente circolare andremo a ridurre appunto i parcheggi blu nella zona centrale dell'Ortazza liberando quindi spazi per il disco orario e anche in via Mazzini libereremo alcuni parcheggi blu lasciandoli a disco orario questo un po' per consentire comunque come dicevo la possibilità di attingere a spazi in centro anche nell'immediatezza per le piccole commissioni le cose insomma che possono essere necessarie Ecco, cambiando argomento proseguono i lavori in foro boario e lì insomma si sta andando avanti qual è il punto della situazione? Due livelli allora la sistemazione del parcheggio che adesso ha bisogno di essere ripristinato nella pavimentazione quindi tra la fine del mese di marzo e quella inizio del mese di aprile tutta la pavimentazione verrà rimessa in ordine e quindi il porfido verrà sistemato ma la cosa più importante ecco a Pracastelvecchio il famoso progetto del parco urbano di cui stiamo parlando da veramente tanto tempo sta un passetto in più un passo avanti con il posizionamento della passerella ciclopedonale che congiunge proprio fisicamente l'area di Pracastelvecchio all'area dell'ex Tomasella dei campi di via Carducci ecco una connessione di un'area verde molto significativa per la città che guarda avanti guarda il futuro e consente nuovi spazi di ottenere anche per le famiglie per la socialità per gli eventi e per lo star bene quali sono i tempi? beh insomma la passerella è stata posizionata noi contiamo insomma che con quest'anno il grosso del lavoro sia consegnato grazie allora al sindaco Carlo Spagnol per questo collegamento da Sacile è tutto a voi la linea grazie a Daniele Micheluz ci fermiamo per qualche minuto a tra poco ben ritrovati andiamo ora a San Daniele per Conosco Ergo Sumo un'indagine curata dall'associazione Leggermente sulla figura di Giulio Camillo padre del teatro della memoria vediamo indagine sulla controversa figura di Giulio Camillo padre del teatro della memoria e sulla manipolazione del sapere anche attraverso un'installazione interattiva multimediale del collettivo artistico Zero Idee parliamo di Conosco Ergo Sumo la due giorni di incontri organizzata a San Daniele da Leggermente l'oramai nota associazione degli appuntamenti letterari mensili sandanielesi presieduta dal docente autore teatrale e critico Paolo Patui con il sostegno di regione comune di San Daniele Civica Biblioteca Guarneriana e Fondazione Friuli Conosco Ergo Sumo ha avuto l'onore di ospitare Stefano Bartezaghi enigmista giornalista e scrittore conoscitore della figura di Giulio Camillo per tramite il suo maestro Umberto Eco e Mario Turello insegnante saggista e critico letterario udinese invitati in Biblioteca Guarneriana a delineare la personalità di Giulio Camillo detto Del Minio erudito friulano nato a Porto Gruaro nel 1480 famoso per il suo trattato sull'imitazione nell'arte e per il vagheggiato progetto utopistico del teatro della memoria con il fascino dell'Ars Combinatoria che unisce numeri e lettere destini e significati dell'esistenza come lo stesso Camillo amava dimostrare altro importante appuntamento della Due Giorni l'inaugurazione in chiesa della fratta di Le Dirai Marte o Metallo installazione interattiva multimediale concepita dal collettivo artistico Zero Idee assieme ad un pool di consulenti sulla provocazione utopica di Giulio Camillo delle cosiddette scienze noetiche che studiano la coscienza e la sua interrelazione con il piano materiale è toccato ad Angelo Floromo scrittore e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana a guidare il pubblico in questa sorta di viaggio fra cabala esoterismo scienza e congiuntura astrali ma come funziona la macchina? Paolo Patui ne abbiamo immaginato un teatro della memoria nei nostri giorni quindi abbiamo pensato un grande schermo dove scorrono 49 parole numero magico per Giulio Camillo chi vuole accedere a questa installazione può tramite un pulsante scegliere una di queste 49 parole in quel momento un algoritmo sotto forma di software collega l'installazione a tutti i siti del mondo e va a cercare da questi siti le immagini le parole le frasi che riguardano quella parola le combina e ne produce sette che vengono stampate in un foglio sono sette immagini che in quel momento in questo preciso istante il mondo ci dà il sapere universale ci dà sotto forma di suggestioni ogni spettatore potrà prendere questo foglio portarselo e leggere e interpretarlo in base alle suggestioni che però sono variabili nel senso che noi forse oggi pensiamo di poter accedere al sapere universale ma forse è il mondo del web che spesso accede a noi e ci suggestiona con immagini parole e frasi che noi dobbiamo sapere in qualche modo decodificare è venerdì e quindi è il momento della rubrica libro nel cassetto a cura di Chiandetti Editore buongiorno e ben ritrovati alla rubrica settimanale intitolata il libro nel cassetto angolo dell'autore curato da Chiandetti Editore oggi siamo in compagnia della dottoressa Riana Maturi buongiorno buongiorno vicepresidente dell'associazione culturale per la ricerca storica ed ambientale ad un decimum fondata nel 1987 e presente a San Giorgio di Nogaro parleremo con lei del recente annuario 2019 e anche delle attività dell'associazione la prima domanda spontanea e curiosa è questa il titolo dell'associazione denominazione ad un decimum cosa significa? beh sul tracciato della via Agna che anticamente univa quarto d'altino ad Aquileia si è riscontrato da ricerche e da analisi al georadar che sussisteva un insediamento di epoca romana quindi che interessava proprio la zona di San Giorgio di Nogaro con delle ville rustiche e un porto sul fiume Corno è stata poi trovata sempre al georadar anche una lunga banchina consistente in tracce anche di mosaico di tessere di mosaico che sono affiorate alla luce e che testimoniano questa cosa e c'era anche una stazione di cambio cavalli cosiddetta Mutazio essa stava proprio a 11 miglia da Aquileia e da qui il nome Mutazio ad un decimum è il primo nome con il quale la zona di San Giorgio di Nogaro è stata identificata anticamente e da qui naturalmente l'associazione prende il nome grazie quindi dopo la prima domanda ce ne soviene un'altra l'associazione conta di ben 105 iscritti attualmente sono numerosissime le attività che voi svolgete nel corso dell'anno gli annuari che quindi vengono realizzati come dice la parola stessa annualmente riportano tutte le attività e gli studi che effettua ad un decimum e divisi soprattutto per tematica vuole darci un'infarinatura a riguardo si riportano soprattutto la parte letteraria dell'attività della ad un decimum che è effettivamente molto consistente perché poi la ad un decimum spazia in mostre presentazioni varie attività anche proprio sul territorio ad ogni modo l'annuario cerca di riassumere un po' tutte queste tematiche le suddivide in argomentazioni che trattano innanzitutto di archeologia che è il tema con il quale la ad un decimum è nata e secondariamente parla della San Giorgio di ieri e di oggi parla anche di poesia c'è l'angolo della poesia che tra l'altro viene espressa in più lingue e un altro argomento importante dell'annuario è quello che interessa l'ambiente e il territorio che è un altro degli argomenti con cui l'associazione appunto è nata ambiente e territorio significa botanica significa geologia significa architettura e ha dato poi la parte ambiente e territorio il là allo studio di terra di acque diversi anni fa già che andava a interessarsi di tutto quello che caratterizza la nostra zona e l'ambiente quindi immerso nell'acqua quindi i mulini con i suoi casali i castelli d'acqua le olle e la laguna e le leggende i personaggi e la storia che si possono intessere su tutto ciò dallo studio di terra di acque è nato poi l'argomento religiosità che si è andato ad accostare e studiando la religiosità e come viene espressa nell'arte è nata quest'anno è stata presentata per la prima volta di itineranni a giugno a San Giorgio di Nogaro la mostra a freschi senza frontiere ovviamente la dottoressa Maturi ci ha fatto solo una breve panoramica rispetto a tutte le attività che ad un decimum organizza durante l'anno ricordiamo se siete interessati a scoprire qualcosa in più riguardo a questa associazione visitate il sito www.adundecimum.it e ricordiamo anche un importante appuntamento assolutamente per tutti coloro che volessero visitare l'Istria durante quest'estate ricordo che dai primi di marzo la mostra a freschi senza frontiere sarà presente nella penisola istriana in maniera itinerante e sarà il fiore all'occhiello che la Croazia promuoverà per quanto riguarda il proprio territorio durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea ringrazio dottoressa Maturi per questo intervista grazie a voi e se anche voi da casa avete uno scritto al momento nel cassetto riguardando una memoria storica una biografia un diario un romanzo una raccolta di poesie potete contattare la nostra casa editrice e realizzare così insieme il vostro sogno arrivederci arrivederci siamo in chiusura ci lasciamo con le previsioni del tempo quella di Marco Virgilio poi sarà il momento del punto con Enzo Cataruzzi oggi ospite avrà Camillo Melissa sindaco di Pulfero grazie per averci seguito buon pomeriggio a tutti voi ben trovati con l'aggiornamento meteo del mattino dunque oggi sarà una giornata di bel tempo perché un fronte che è interessato un po' le zone occidentali italiane va verso sud ma noi invece saremo direttamente interessati da un flusso settentrionale con correnti più secche e anche più stabili un po' di addensamenti la mattina sulle Alpi qualcosa sulle zone sudorientali ma in generale la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno soprattutto appunto da metà mattina in poi quando svaniranno anche gli addensamenti sulle creste confinarie e gli ultimi addensamenti sulle zone di sud est della nostra regione le temperature massime sono attese in risalita fino a 13-14 gradi venti settentrionali sostenuti in quota e anche diciamo nel gemonese al suolo e anche un po' verso la costa la giornata di sabato vede un certo aumento della nuvolosità per un fronte in avvicinamento fronte che poi già dalla tarda sera potrà dare le prime piogge ma che sarà più incisivo nella giornata di domenica soprattutto nella prima parte temperature che cambiano poco valori massimi intorno ai 13 gradi gli spaghetti ci indicano la risalita della temperatura in quota che si porta attorno ai valori medi anche qualcosina in più e delle piogge in vista per diversi giorni a partire da domenica ci sarà una serie di fronti in successione che potranno portare della pioggia e della neve anche in montagna questo almeno fino al 5-6 del mese vediamo la domenica con le piogge le nevicate in montagna a quote variabili tra i 700 metri delle Alpi interne e i 1200 delle prealpi la temperatura che aumenta nei valori minimi e cala un po' in quelli massimi soprattutto verso il pomeriggio sera il miglioramento ma lunedì altra pioggia in arrivo gradualmente nel corso della mattina tempo in peggioramento con piogge in intensificazione tra il pomeriggio e la sera nevicate a quote variabili tra i 900 e i 1400 metri e il peggioramento più intenso lo avremo ancora nella giornata di martedì quando arriverà dell'aria un po' più umida e anche un po' meno fredda in quota tanto è vero che la quota neve inizialmente sarà alta poi però col passaggio del fronte scende di nuovo ai 700 metri in zona Tarvisiano e Valcanale e poi un miglioramento relativo nella giornata di mercoledì cessano le piogge temperature di nuovo in lieve aumento io direi che ho detto tutto stasera non ci sarà a metà weekend per lasciare spazio alla mesa ma le presioni del tempo sì quindi ci vediamo più tardi arrivederci a metà a metà a metà a metà Grazie a tutti.